La pericolosità delle improvvise piogge che appena un mese fa aveva colpito la regione Marche ha spaventato in un poco diversi residenti di Apsella del comune di Montelabate. Come vi abbiamo raccontato nel servizio di qualche settimana fa, il motivo è la presenza di piante ed erbacce lungo il fosso Apsella, il fosso collegato al fiume Apsa. Un rapido intervento di pulizia del canale di scolo che a gran voce avevano richiesto gli abitanti del paese, ai quali il vice sindaco del comune di Montelabate ha voluto rassicurare spiegando le prossime operazioni che verranno condotte. In questo caso va fatto ed è stato programmato un intervento che comunque richiede una programmazione, quindi quando ci saranno le condizioni per poter accedere nel fosso verrà fatta una manutenzione per pulire l'argine. Fondamentalmente i cittadini sono abituati a pensare che l'argine pulito sia meno pericoloso di un argine con le fronde. Le fronde in qualche modo rallentano il flusso dell'acqua e la velocità in molti casi è una situazione di pericolosità. Ovviamente bisogna evitare che tronchi o altro vadano ad intralciare l'imbocco, quindi queste situazioni qua vanno monitorate e nel caso si interviene. È un intervento che però deve essere fatto in breve tempo? I tempi devono essere brevi? Sì, innanzitutto abbiamo fatto un intervento sulla parte a valle dell'intubamento e quindi questo già favorisce lo scorrimento delle acque. Questo era un intervento che era stato programmato dall'anno scorso, però siccome non si poteva accedere al terreno per andare nel fosso per fare i lavori in quanto avevano seminato, non trattandosi di un intervento urgente è stato rimandato di un anno. Qua la situazione è analoga, ovviamente facciamo i dovuti scongiuri, però ci stiamo lavorando e quindi treveremo anche dall'altro lato. Faroni si è poi soffermato anche su un'altra questione, quella legata alle lamentele da parte di alcuni residenti di un condominio di Montelabate di via Bixio che avevano richiesto un'immediata sistemazione delle tubature di un tombino pubblico che in caso di pioggia faceva defluire l'acqua verso il tombino del privato, allagando il passaggio verso l'abitazione. Penso che gli sia stato spiegato che il collegamento dal privato verso le fogne pubbliche che è stato fatto successivamente e quindi non avendolo fatto in maniera adeguata l'acqua anziché defluire dal privato verso il pubblico fa il percorso inverso, quindi diciamo che dovrebbe attivarsi il privato per risolvere il problema che poi dopo ha dentro a casa lui, quindi bisogna che qualcuno in qualche modo intervenga. A fianco del condominio sorge una pianta che secondo i residenti rappresenta una seria minaccia per la loro sicurezza. Noi le piante, quelle più pericolose, facciamo un monitoraggio con Aspes che ci fa da consulente per le piante che sono in situazione di pericolo e quindi vengono valutate da persone esperte che ci dicono se le piante sono malate e quindi occorre intervenire con urgenza. Noi tutti gli anni facciamo delle potature e degli abbattimenti in questo periodo, quindi ci avvaliamo di persone esperte per farci indicare quali sono gli interventi più urgenti da fare. In quel punto già si era intervenuti qualche anno fa, però a distanza di tempo, come viene fatto dappertutto, bisogna purtroppo intervenire. Sappiamo tutti che abbiamo bisogno delle piante, degli alberi, ce ne sono alcune che hanno bisogno di manutenzione perché cascano le foglie e altre hanno tipi di cose a cui seguire. Tornando al tema dei fossi e della pericolosità delle piogge, nel caso in cui una corretta manutenzione non viene applicata, il Comune di Montelabate sta portando avanti un intervento economicamente importante proprio per contrastare ogni tipo di incidente. Sono anni che ci stiamo dietro perché questo fosso ha una particolarità molto elevata in termini di grado di rischio perché essendo vicino alle case ma soprattutto perché ha un'elevata scosciosità e quindi il deflusso delle acque era potenzialmente pericoloso e quindi abbiamo cercato in collaborazione con la Regione di fare un intervento e siamo riusciti ad intercettare dei fondi regionali per 250 mila euro, cui abbiamo aggiunto altri 50 mila euro di risorse comunali per fare delle briglie che rallentino il deflusso dell'acqua perché anche qua il fosso è stato in parte intubato e quindi il pericolo era soprattutto l'imbocco ma poi anche la velocità delle acque che venivano giù in questo breve tratto di fosso. La conclusione di un intervento è che poi questo si tratta solo di un primo stralcio perché più a monte ce ne sarebbe un secondo che in termini economici sarebbe molto più importante quindi stiamo cercando di intercettare altre risorse per continuare la messa in sicurezza dei fossi che è l'obiettivo su tutto il territorio.